Impennata pericolosa di contagi anche nell'Agrigentino, anche nei piccoli comuni, vedi Racalmuto, Grotte d'Aragona, i casi di positività al Covid della variante Omicron aumentano in maniera esponenziale. 64 a Racalmuto, 71 a Grotte, 76 ad Aragona, ma si è in attesa dell'ufficializzazione di decine e decine di casi che hanno avuto esito positivo, che faranno schizzare ulteriormente i numeri verso una situazione delicata e preoccupante. L'ASP ha comunicato al sindaco di Palma di Montechiaro che in due giorni si sono registrati 106 positivi ed un decesso. Il sindaco Castellino ha mandato un messaggio di cordoglio alla famiglia della nuova vittima, la 25esima, e ha lanciato un appello a tutti i cittadini. È ancora in vigore il divieto di feste nei luoghi al chiuso e all'aperto. Il divieto assoluto di assembramenti di qualsiasi natura e di ogni luogo. Abbiamo 243 positivi, continua il primo cittadino, pertanto mi preme raccomandare ai miei concittadini di non far visita ai parenti non conviventi, di limitare i pranzi e le cene tradizionali, solo tra conviventi e di uscire di casa solo se strettamente necessario. Nella sola giornata di ieri in provincia di Agrigento si sono registrati ben 746 positivi. Allarmanti i numeri che arrivano da Canicattì, dove i positivi totali sono 516, 119 nuovi casi nella sola giornata di ieri. Lieve crescita dei casi a Favara. Secondo i dati comunicati dall'ASPE e diffusi dal sindaco Antonio Palumbo, i positivi al covid sono al momento 319. Non scende il contagio nella piccola Castrofilippo, dove su 2000 abitanti i contagiati sono quasi 200. La conseguenza è stata anche un crescente e sempre più grave disagio economico. Da qui l'iniziativa aggiunge un posto a tavola, realizzata di concerto tra la Rete Civica della Salute e la Caritas Diocesana di Agrigento, per venire incontro in questi giorni alle famiglie che vivono in condizioni particolarmente difficili. Con una somma messa a disposizione dalla Caritas sono stati acquistati generi alimentari fondamentali, compresa l'acqua per 84 nuclei familiari. I pacchi sono già stati raccolti nel salone parrocchiale di Castrofilippo. In questi giorni i centri vaccinali sono stati presi di mira da un considerevole numero di persone. L'Omicron sta dimostrando tutta la sua potente contagiosità che si limita nella stragrande maggioranza di chi si è sottoposto alla vaccinazione ad un raffreddore accompagnato da febbricola, un malessere simile all'influenza. Diverso invece l'approccio di Omicron sulle persone non macinate, alle quali può causare complicanze tali da richiedere il ricovero anche in terapia intensiva se non addirittura essere causa scatenante di decesso.